La prima cosa che ti voglio chiedere, come sei riuscito ad avere Alan Rickman? No, no, no. He was an absolute gentleman. We managed to contact him through a friend of a friend and at that time we had half the movie already completed. And I wanted Alan from the very beginning. e sapevo che se avessi un po' un film per mostrare, non ho avuto la possibilità di ottenere quindi siamo in contatto e abbiamo visto la parte della parte del film e abbiamo avuto un ringrazio dal prossimo giorno che vogliono farlo Sì, e sicuramente i filmi sono influenzato da German Expressionismo e se guarda i filmi del 1920s, i filmi come The Cabin of Dr. Caligari, Der Gollum e io ero sempre molto attratto a un mondo di scuola e di una storia di storia come questo e mi considero che sia molto bene Grazie 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 Grazie